Salve, sono Cristian Benincasa, Business Development Manager dell'ABU del Technology in TDCnex. Ciao a tutti, mi chiamo Giacomo Tomasini, collaboro all'interno della Business Unit Global Computing Components di TDCnex e siamo la Business Unit che tratta principalmente tutti i prodotti del portafoglio NVIDIA. Quest'oggi volevamo parlarvi della collaborazione tra delle NVIDIA e come questi due vendor collaborano proattivamente per identificare e supportare il mondo del canale nel settore dell'intelligenza artificiale. Proveremo a parlare delle soluzioni di NVIDIA nell'ambito networking, delle GPU di NVIDIA ma soprattutto dei sistemi NVIDIA certified. L'intelligenza artificiale rappresenta in Italia un mercato in forte espansione e con il supporto di Dell, NVIDIA e TDCnex, i nostri partner saranno in grado di identificare grandi opportunità di mercato per trasformare qualunque genere di industria rendendo infrastrutture complesse più accessibili, gestibili e scalabili. Al giorno d'oggi le aziende stanno affinando i propri dati e diventando dei veri e propri produttori di intelligenza. I data center stanno diventando fabbriche di intelligenza artificiale, abilitate all'esplorazione e dell'allaborazione accelerata. Tuttavia il controllo del calcolo accelerato richiede delle operazioni in input e output accelerate. Una delle materie strettamente legate al mondo dell'intelligenza artificiale è quella del deep learning. Il deep learning può essere applicato a diversi tipi di vertical come ad esempio il settore ospedaliero per avere delle diagnosi sempre più precise e veloci oppure il settore bancario per prevenire le frodi informatiche. NVIDIA e Dell sono presenti sul mercato con delle soluzioni certificate che riescono a rispondere alle esigenze del mercato garantendo scalabilità, performance e sicurezza. Grazie al sistema NVIDIA Certified ora non possiamo solo garantire le migliori prestazioni di calcolo della categoria, ma ora facciamo anche la migliore comunicazione della categoria grazie al software dedicato al data center manual IOM che interfacciandosi con il sistema NVIDIA Certified permette di massimizzare le operazioni di input e output dell'archivazione della rete e le comunicazioni multinodo e multi gpu per le applicazioni software più diffuse al mondo utilizzando dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni di sistemi di prioritizzazione, imaging, simulazione e ricerca scientifica. Le soluzioni del PowerEdge certificate da NVIDIA riescono a gestire carichi di lavoro sempre più complessi ottimizzando le performance delle infrastrutture fornendo dei risultati sempre più precisi. Qual è quindi il vantaggio di avere un server certificato NVIDIA? Un sistema NVIDIA certifica e unisce le prestazioni gpu NVIDIA con il networking NVIDIA sui sistemi dei principali OEM e quindi conforme alle best practice di progettazione di NVIDIA e ha superato una serie di test di certificazione che convalidano le migliori configurazioni di sistema per prestazioni, gestibilità, scalabilità e sicurezza. Con i sistemi certificati di NVIDIA le aziende possono scegliere un supporto di livello aziendale per eseguire in modo sicuro ottimale tutti i propri carichi di lavoro di elaborazione accelerati sia per configurazioni piccole che su larga scala. I sistemi certificati NVIDIA sono quindi configurati per offrire delle prestazioni eccellenti per una vasta gamma di carichi di lavoro. I clienti possono quindi eseguire la maggior parte delle applicazioni accelerate su questi sistemi senza dover quindi intercorrere in qualsiasi problema prestazionale. È molto importante oggi dire che i sistemi certificati NVIDIA si basano quindi su modelli server mainstream dei principali fornitori OEM. I clienti possono quindi scegliere tra i sistemi che già stanno utilizzando all'interno della loro appliance e del loro ambiente aziendale. TDCinex ponendosi al centro dell'ecosistema offre una serie di servizi e soluzioni per rispondere alle esigenze dei nostri clienti cercando di aiutare i nostri partner a fornire un valore aggiunto al mercato dell'intelligenza artificiale. Parlando dei sistemi server NVIDIA abbiamo discusso di quanto sia importante disporre della giusta infrastruttura in termini di hardware di rete e video a supporto dell'elaborazione dei dati. I grandi sistemi di High Performance Computing HPC con un'elevata capacità di prestazione di calcolo funzionano bene solo se sono abbinati e allineati a quella che è la giusta attrezzatura di rete per entrare e far uscire i dati correttamente dal sistema per evitare anche quelli che sono i colli di bottiglia e latenza. A tale scopo quindi NVIDIA consiglia l'utilizzo di attrezzatura di rete NVIDIA per offrire delle prestazioni elevate senza pari a basso latenza per soluzioni di piattaforme di elaborazione complete. Le soluzioni di networking accelerato NVIDIA Networking offrono quindi la possibilità di scegliere tra protocollo Ethernet o InfiniBand offrendo quindi alle aziende l'infrastruttura che supporta dallo sviluppo all'implementazione di tutti i carichi di lavoro moderni e soprattutto tutti quelli che sono i requisiti storage che consentono la nuova era dell'elaborazione accelerata per massimizzare quelli che sono gli investimenti nell'artificial intelligence e nell'HPC. E' importante avere tutte le risorse correttamente allineate. Per quanto riguarda la rete NVIDIA dispone di un insieme di prodotti dedicati all'ambiente di rete. Il networking NVIDIA offre infatti delle schede di rete dei controller proprietari NVIDIA con a bordo il proprio chip NVIDIA delle schede di data processing unit chiamate DPU. Qui bisognerebbe aprire anche un nuovo mondo e un nuovo capitolo perché la DPU rientra adesso all'interno del data center come terzo paradigma assieme alla CPU e alla GPU. E' un prodotto che permette attraverso una corretta regolazione quindi viene gestita dal software, è una software defined object di fatto, permette il ricircolo ottimale all'interno del data center di tutte quelle che sono l'elaborazione dei dati e quindi le informazioni e quindi i dati all'interno del data center. Oltre a questi prodotti disponiamo anche di switch che sono quindi a caratteristica Ethernet ed InfiniBand oltre che a tutte le ottiche e i transciver e i cavi dedicati. Tutti questi prodotti assicurano quindi che il server e la GPU ottengano i dati in maniera del tutto ottimale per l'elaborazione abbastanza velocemente ed evitando quindi tempi morti, latenze e quindi aumentando l'efficienza e la riduzione dei costi. Definita come il nucleo di IHPC nel data center moderno, la GPU data center platform ci permette di risolvere le più importanti sfide scientifiche, industriali e commerciali all'interno del mondo tramite l'utilizzo dell'Artificial Intelligence e dell'HPC. Visualizzare i contenuti complessi per creare prodotti all'avanguardia, raccontare delle storie coinvolgenti e reinventare le città del futuro è una delle sfide pioneristiche di NVIDIA per il futuro. Tutto questo è grazie all'architettura NVIDIA Ampere, che appunto attraverso l'estrazione di nuove informazioni ed enormi set di dati ci permette di essere progettata all'interno di quella che è oggi definita l'elastic computing, ossia affrontare più sfide attraverso un'architettura, fornendo quindi un'accelerazione impareggiabile su ogni scala. La NVIDIA GPU data center platform accelera un'ampia gamma di carichi di lavoro, dalla formazione, quindi del machine learning, all'inferenza AI, al calcolo scientifico e alle applicazioni VDI di Virtual Desktop Infrastructure. Con una vasta gamma di GPU, dalle prestazioni più elevate a quelle entry level, tutte sono alimentate da un'unica architettura unificata, NVIDIA Ampere. Per quanto riguarda le prestazioni di male essenziale, è identificare la GPU ideale per un carico di lavoro specifico. È bene identificare la corretta GPU, permettere proprio di eseguire il giusto carico di lavoro correttamente. All'interno di GPU Nvidia data center platform troviamo la famiglia di GPU con l'architettura Ampere, quindi. Per il calcolo di inferenza troviamo la versione entry level per capacità grafiche NVIDIA A2, raggruppata assieme alle più grandi A100 e A30. Le NVIDIA A40 e A16 invece sono destinate rispettivamente alla grafica ad alte prestazioni e alla virtualizzazione ad alta densità. NVIDIA dispone quindi infine di acceleratori convergenti come le A100X e le A30X, questo è molto importante dirlo perché permettono di integrare la GPU del quale parla parlavamo prima alla GPU, proprio perché la GPU essendo il cuore pulsante di un sistema di HPC ed AI, ha bisogno di andare a liberare quelle che sono le risorse grafiche attraverso la rete. E quindi è importante che all'interno dell'acceleratore grafico vi sia anche un prodotto dedicato al networking che è la DPU e che permette quindi di liberare le risorse. Questo è importantissimo per i nostri acceleratori. Per qualunque genere di informazione relativa alle soluzioni dell'INVIDIA non esitate a contattarci, siamo disponibili a organizzare sessioni dedicate per rispondere al meglio alle vostre esigenze.